Per le feste di Natale, parcheggi coperti e gratuiti tutte le domeniche a partire dal 25 novembre. Bus e navetta dal parcheggio del cimitero di Tavernelle e da Piazza Darmi per raggiungere il centro senza prendere l'auto. Sono alcune delle agevolazioni messe in campo da Mobilità e Parcheggi e dall'amministrazione comunale per le migliaia di persone che si recheranno ad Ancona sotto le feste. Si inizia con gli sconti dei parcheggi in occasione del Black Friday venerdì 23 novembre. L'MP offre il 30% di sconto su tutti gli stalli all'aperto, compreso anche l'Umberto I, a chi parcheggia e paga con l'app MyCicero. Al Traiano, se uno si presenta al pagamento sempre venerdì in cassa manuale con uno scontrino maggiore di 10 euro, quindi testimoniando di aver acquistato, di aver fatto shopping nel giorno del Black Friday, riceverà anche lì uno sconto del 30%. Per Natale, come sempre, abbiamo organizzato dei buoni parcheggi che distribuiranno i commercianti. Tutte le festività dal 24 in poi saranno parcheggi recoperti gratuiti. Mettiamo in piedi quindi sia il Cialdini, sia il Traiano, sia l'Umberto I. Dal 25, che è domenica, partiranno tutti quanti per sette festività consecutive, perché i girati si è compresi gli archi dal 2 di dicembre. Questo è importante perché vogliamo proprio drenare il traffico lì agli archi e soprattutto con i bus e navetta. Per far fronte alla necessità di ulteriori posteggi in centro, Mobilità e Parcheggi e l'amministrazione comunale stanno pensando di realizzare un nuovo parcheggio coperto multipiano con 130 posti auto nell'ex caserma San Martino, vicino alla Galleria. La necessità di più posti auto è una delle criticità emerse dall'indagine di Customer Satisfaction di Mobilità e Parcheggi sui parcheggi Araso, curata dall'Istao, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Volterra Elia.